Il Cagliari si prende tre giorni di meritato riposo dopo il prezioso pareggio ottenuto all'Allianz Stadium che ha interrotto l'imbattibilità dei bianconeri di Tiago Motta. Un risultato che conferma la crescita su tutti i fronti della squadra di Davide Nicola, ora a quota 6 punti in classifica. Da giovedì pomeriggio però si torna a fare sul serio al Cry Sport Center di Assemini. La sosta per le nazionali offre a Nicola un'occasione d'oro per continuare a lavorare in profondità sulla squadra, per recuperare i quattro infortunati Pavoletti, Lapadula, Vietesca e Ianto e per perfezionare l'identità del suo Cagliari che ha dimostrato anche ieri di voler lottare fino all'ultimo minuto senza temere nessuno. Il tecnico piemontese dovrà però fare a meno di ben otto pedine fondamentali impegnate con le rispettive nazionali. Mina con la Colombia, Marin con la Romania, Macumbu con il Congo, Obert con la Slovacchia, Sherry con l'Albania, Matteo Prati con l'Italia Under 21, in partenza anche Kingston con lo Zambia e Luvumbo con la nazionale angolana. Dopo la sosta il 20 ottobre alle 18 all'Unipoldomus arriva il Torino di Paolo Vanoli, a caccia di riscatto dopo due battute d'arresto consecutive in campionato. I Granata, protagonisti di un sorprendente avvio di stagione, hanno raggiunto anche la vetta della classifica a settembre, anche se solo per una serata. Vanoli dovrà fare i conti con due assenze importanti, quella di Duvan Zapata, uscito in lacrime contro l'Inter, e la squalifica di Maripan, espulso per un intervento killer su Marcus Turam.